che cosa ho fatto? qua c'è un nuovo file si chiama new1 ho inserito html html e slash html poi sono andata su linguaggio e ho scelto come linguaggio html in questo modo vengono colorati tag perché viene riconosciuto che questo è linguaggio html prima di procedere conviene salvare questo file che in questo momento non è salvato come faccio per salvarlo basta cliccare su questa icona qui salva ora il problema che spesso hanno gli studenti che salvano a casarcio non salvate casarcio andate dove volete voi va benissimo anche sul desktop dovete creare una nuova cartella quindi cliccando su crea nuova cartella date questo un nome a questa cartella che può essere esercizio o quello che volete voi poi entrate dentro questa cartella e attenzione il file non si può chiamare new1 diamogli un nome decente quindi prima di salvare qua cambiamo il nome del file diventa index poi se osservate qua sotto c'è già salva come hypertext markup language file cioè salva già il file come html perché perché scegliendo il linguaggio html lui lo riconosce già come html quindi salvo come appare questo file quando l'ho salvato così index con l'icona del browser di default se non appare così vuol dire che c'è un problema avete sbagliato salvare poi c'è tipo e quando dice che è un html document bene posso tornare qui dentro ad html devo aggiungere altre due sezioni una sezione la sezione di intestazione che era chiusa tra i tag add e slash add quindi vado a capo e scrivo slash add tag di apertura tag di chiusura che cosa c'è qua dentro ci sono un sacco di cose che però non si non vengono visualizzate nella pagina sono delle informazioni aggiuntive avete visto prima come parlavo in precedenza che posso metterci dentro dei css posso metterci dentro una serie di informazioni che riguardano il documento invece per andare a scrivere le cose che si vedranno nel browser devo andare a creare questa ulterior sezione body body quindi dentro il body vado a mettere quello che voglio che venga visualizzato nel browser poi salvo così almeno sono sicura che se dovesse chiudersi o succedere qualcosa di particolare almeno questo me l'ha salvato che cos'è che posso mettere nel body in tutta una serie di cose iniziamo a vederne alcune quindi iniziamo a vedere tutto ciò che riguarda il testo io posso anche scrivere il testo liberamente cioè per esempio scrivere questo e testo libero ora salvo e per vederlo nel browser o vado di nuovo sul desktop apro la cartella e faccio doppio clic su questo file o più comodamente da notepad++ dovreste avere qua esegui e la possibilità di lanciarlo nel browser che preferite io lo lancio e deve essere installato il browser ovviamente lancio in chrome qui vedete che compare il testo che ho scritto questo è il testo libero quindi non c'è bisogno di fare grandi cose tutto quello che io scrivo qua dentro nel body si vede nella pagina il problema però è che dobbiamo creare delle pagine che siano un po' belle, un po' eleganti con delle immagini, dei colori quindi normalmente non si inserisce del testo così ma si utilizzano degli altri tag uno di questi tag che viene utilizzato per il testo è il paragrafo P quindi come si scrive normalmente del testo non così ma si scrive tra i tag P e slash P quindi P slash P ecco qua in mezzo posso scrivere del testo che viene interpretato come paragrafo quindi questo è un paragrafo che differenza c'è tra il testo libero e il paragrafo? che il paragrafo è un elemento di blocco mentre il testo libero non lo è questa è una cosa molto importante da capire intanto vediamo come appare nella pagina non è qua ma è l'altro browser sembrerebbero uguali, non sono uguali perché il paragrafo lascia uno spazio prima del testo e dopo il testo mentre il testo libero cioè al di fuori dai tag non ha questa proprietà inoltre ad un paragrafo posso mettere dei bordi posso dare una larghezza, un'altezza, una dimensione quindi mentre per un testo libero questo non lo posso fare perché non ha appunto una formatazione particolare però via di questo quindi questo è il testo libero non si usa, lo cancello perché non si scrive così paragrafo significa quindi che va a capo se io vado a scrivere un altro paragrafo potete notare che aggiorno va a capo in automatico lasciando oltretutto dello spazio del margine quindi tra un paragrafo e l'altro c'è anche un altro modo per scrivere del testo certo utilizzando l'elemento div, il tag div in realtà il tag div viene usato principalmente per il layout cioè per disporre gli elementi all'interno di una pagina però può essere utilizzato anche per contenere del testo in pratica il div è un contenitore può contenere testo, può contenere immagini può contenere un sacco di cose quindi questo è il testo dentro a un div e quindi andiamo a chiudere sempre il tag iniziale con il tag finale scrivo un altro salvo andiamo a vedere cosa succede apro sempre la stessa pagina html e la aggiorno qua ecco quale differenza c'è rispetto al paragrafo? si vede subito mentre il paragrafo manda capo lasciando del margine tra un paragrafo e l'altro il div manda capo però non lascia spazio un altro modo per scrivere il testo utilizzando stan perché ho scritto il testo in line salvo andiamo a vedere allora potete notare che non va a capo automaticamente non va a capo automaticamente perché questo elemento non è un elemento di blocco non va a capo automaticamente non ha un suo non occupa uno spazio o un rettangolo diciamo all'interno del documento ma gli elementi span vengono allineati orizzontalmente fino a quando c'è posto quando non c'è più posto va a capo perché non c'è più posto non peraltro ora rimanendo fermi sul testo ho ancora due minuti andiamo a vedere come possiamo attribuire a questo testo delle caratteristiche visive per esempio il colore è possibile sempre utilizzare l'attributo style di html quindi io posso aggiungere a questo elemento un attributo vedete che compare in rosso proprio per indicare che è qualcosa di diverso dal tag elemento html p è un attributo di p poi posso vado a scrivere un uguale le virgo tra virgolette vado a scrivere una proprietà css in questo caso siccome voglio specificare di che colore deve essere il testo la proprietà css per il colore del testo è colon quindi questa è una proprietà e questo va scritto sempre così quando vogliamo impostare il colore del testo vogliamo scriverlo in blu o in verde in verde i colori vanno scritti utilizzando i nomi inglesi così oppure utilizzando i codici esadecimali o ci sono anche altri sistemi però adesso non è il caso di approfondire anche quelli codice esadecimale consiste nell'andare a scrivere cancelletto e poi abbiamo quattro cifre esadecimale xxxxxxx allora le prime due rappresentano la quantità di rosso qua di rosso non ce n'è quindi si mette 00 poi c'è il verde e il colore è verde allora si mette ff e poi di nuovo il blu 00 naturalmente ci sono in internet le tabelle che vi danno i codici esadecimali per ogni colore ora siccome questo è un colore di base l'ho scritto appunto facendovi capire che cosa sono questi numeri red le prime due green le seconde due e blu le ultime due quindi se volessi creare il blu basterebbe andare a scrivere per esempio in questo div invece di mettere ff dove c'è il verde metto ff dove c'è il blu e lascio lo 0 negli altri dopo queste modifiche ecco che cosa accade aggiornano la pagina e potete notare che oltretutto qua il verde è diverso come potete notare nonostante sia verde nel primo caso green rappresenta un verde scuro mentre il verde diciamo quello di base è rappresentato da un verde più chiaro e invece il blu è questo qui abbiamo visto una prima modalità di utilizzo dei css con il colore del testo vedremo poi che ci sono altre modalità grazie a tutti